Ciao ragazzi, sto facendo questo video per la mia amica Viola che l'altro giorno è andata al McDonald's e gli è stato detto che non davano le cannucce per la Coca-Cola e che doveva berselo come se lo beve a casa Iniziamo col dire che come te lo bevi a casa lo dice a tua sorella Se io a casa me lo bevessi con 12 cannucce, allora tu me ne dai 12 di cannucce, stronza Sei tanto quelli che rispettano l'ambiente e poi sopra la Coca-Cola te ci mettono il dischetto di plastica Quando prendi il gelato, quando prendi il gelato te danno la cosa per tenere il gelato dei cartoni e il cucchiaino con la plastica rinforzata, capito? Che non ammazza una delle tartarucche, ti ammazza 500 Tanto quelli si rispettiamo l'ambiente con la plastica che non lo rispettano perché, regà, vi ripeto, il cucchiaino rinforzato e poi però in America fate pori, proprio i bambini di obesità li fate rotolare per strada con la merda chimica che gli fate mangiare Vamo se chiaro, il McDonald's è quell'azienda che dopo tre ore che i panini stanno fermi là li buttano, capito? Non li puoi manco dare le persone che ne hanno veramente bisogno Quindi, stronza, la prossima volta, invece di dare una risposta del cazzo del gelato Nel esame di coscienza, ricordate che stai a lavorare a un McDonald's